Live Social Live Social Il nome sembrerebbe un attimino deviare dalla nostra attività In realtà noi facciamo la nostra specialità e fare vacanze in barca a vela Questo progetto nasceva 25 anni fa E ci piaceva questo nome anche se non aveva nulla a che vedere con le vacanze in barca a vela Anche se oceano ci può stare Ci piaceva questo nome quindi è rimasto questo da 25 anni Ci conoscono oramai così e quindi va bene Bene, parliamo ovviamente di servizi Quali sono appunto i servizi che offrite? Allora i servizi sono tanti Sì, però soprattutto tutto quello che ruota intorno alle vacanze in barca a vela Quindi gestione sicuramente del mercato italiano, mercato estero quando ce ne sarà Ovviamente quindi organizzazione con, senza skipper, cura del cliente Consigliamo rotte, chiaramente la nostra base procida e quindi tutte le location sono tante Si possono anche scegliere ovviamente tra l'esio, le pontine, tra il cilento, chiaramente anche le nostre coste Ovviamente i social e quindi praticamente Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter Quindi basta digitare Progetto Oceano Esatto, sì, oramai siamo insomma su internet da tantissimi anni per cui Molto bene, noi approfitto anche per lanciare il vostro contatto telefonico Che è lo 081-896-0169 Ecco, vogliamo fare un invito sperando ovviamente che anche questa stagione insomma vada a buon fine Per magari contattarvi, conoscervi, venire a scoprire i vostri servizi a chi ci sta ascoltando in questo momento Semplicemente estate con noi Assolutamente, assolutamente Estate in Italia, voglio dire, innanzitutto perché l'Italia è bella Poi non ci dobbiamo dimenticare che proprio un mesetto fa Procida è stata eletta capitale della cultura italiana Assolutamente Per cui è un motivo in più per venirci a visitare e appunto fare vacanze in Italia Molto bene, noi siamo addirittura d'arrivo della nostra piacevole chiacchierate Io voglio ringraziare Massimo e Roberta per la disponibilità alla nostra intervista Vi saluto e vi auguro una buona serata alla prossima Grazie, una buona serata a tutti Grazie Enzo, una buona serata a tutti Amici ed amiche di Live Social, restate con noi prossime interviste e prossime storie Ciao